Bella ragazzi benvenuti al secondo episodio di mob of the dread oggi non so solo perché c'è un pompaxo mio dio avete intravisto il nome lì giù L'avete visto? Hai visto il nome? No Non hai visto il nome Ciao a tutti ragazzi siamo qui sul canale di dread Allora oggi faremo un video in cui Ron morirà al round 4 di zombie Così passo? Anche 3 eh se vuoi 3 Cioè se vuoi mi suicido adesso aspetto qui gli zombie No no infatti noi dobbiamo aspettare di prendere il per 2 aspetta aspetta che rompano anche tutte le barriere proprio Ho visto che hai messo mi piace a un video epico in cui tipo uno fa 8000 punti al round 1 No fa 14000 punti entro il round 4 Cioè è dio lui è dio Sì no però Noi le faremo 14000 in 4 video Sono cose da malati che noi non ci abbiamo voglia di fare in questo momento Cioè le potremmo fare benissimo Certo Non le faremo Facile Troppo troppo No più il per 2 per date fastidio No 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 con calma Osservali in faccia Sfidali Sì Sì se venisse Sfidali con lo sgu... Ok prendi il per 2 e inizia a ucciderli A coltella A coltella Sono entrati in troppi già Sì ma infatti stanno tutti da te Stanno tutti da te Da me ce n'era uno solo Che il feed di 5 zombie Ce n'era uno solo da me Oh che... Sono morto No no sei un coglione No niente era per mettere... Un pochettino Just run best pro player EU Tranquillo tranquillo Vedi che l'ho già ricaricato il punto dell'anima Tranquillo Sì ma per... Era per mettere un po' di apprezzione al pubblico Per far capire come già si svolgerà la... Round... Round 4 Così basso? Così basso? Ma dai noi possiamo fare benissimo di meglio Round 4 Ah va che ti apro le porte E prendo già il primo pezzettino Della spingacida Lui... Va peggio di Gabbo No vabbè peggio di Gabbo è impossibile Cosa ha fatto peggio di Gabbo? Gabbo era morto nella lava su... Appena partita... Appena iniziata la partita Ball Su town Non sapeva che era lava Era rimasto di... No è rossa e scotta e... È rossa e scotta cos'è? È zampilla Perché non facciamoci un bagnetto dentro? È sicuramente l'impasto del... Dai dai vieni a... Vieni a prendertela la chiave Dai fai vedere dalla tua visuale Come te la restreggi nella... Dove sta? Sta lì? Grande Ora la... Gli ho tirato un caricatore di pistolina A round 2 Non è ancora morto Ok munizioni Beh Paxo Grande munizioni Tra l'altro Mi hanno detto benissimo Cioè mi hanno detto che si poteva correre Perché in un mio video Non correvo Sì sì puoi correre dal purgatorio Apri pure la porta qua Sì sì apri anche la porta E se è avanti tempo Perché è così veloce Alla usa in bolt Attiva anche qua L'instant kill Che c'è da attivare il voltaggio Proviamo Vai vai corri corri cazzo Corri cazzo Dove sta? Vieni qua 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 Nella... Nell'insenatura Ah questo qua sì Bravo Vai 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 a ricaricarti Che se no Ho fatto ho fatto Vai proprio Mamma mia Ma se io prendo la chiave poi No no basta che la prenda in uno dei due Ah ok Più che altro in due Sarà molto difficile prendere anche l'aereo Perché non possiamo portare... Ma non lo prenderemo Perché parti con queste cose? Perché dobbiamo partire con obiettivi alti di gioco? Obiettivo... L'obiettivo alto è Già che sei morto Ce n'è uno in testa Devi fare qualcosa Devi sdovogheggiave O lo posso uccidere? Ok vieni qua ad aprirte la porta No a parte che... Ma io ho un 1100 Perché io devo... No no è in effetti... No perché di là ci sono gli uzi Però poi se te la giochi così a 1100 Diventa pericoloso dopo Con la pistolina Ci prendiamo l'NP5 così Anche se teoricamente è anti-etico Prendere l'NP5 Perché è anti-etico? Ce n'è uno sopra la testa Wow Interessante Aspetta Quanto costa? Mille tipo Moriremo Lo sdrogo Tre No no aspetta Adesso allora aspetta Le fa arrivare qua un po' Prendiamo l'Instant Kill E li accoltelliamo tutti Così facciamo un gran punti Ah ma qua c'è l'Instant Kill Non c'è l'Instant Kill Eh si l'hai aperta prima te Apposta per quello Ma il single player non c'è l'X2 Eh si dipende Si da single player Al non single player Cambia Sdovogo Yes Si il single player Ti mettono un sacco di X2 Così ti permettono di fare Un po' più di punti Aspetta Aspetta C'è C'è dietro comunque Headshot Lui dice Fali raggruppare E poi spara a tutti Per rubarmi le chine Si ho capito Siamo a round 3 Non arrivano ancora abbastanza Oddio Forse un po' si Vabbè io apro la porta Per andare verso il guardiano Intanto Tanto butto via un po' di soldi Vai Mi è partito Tipo l'audio della videocamera Che sicuramente tutti sentiranno Però Non so dov'è Oddio c'è un per due Aspetta 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 Ok Ma è quello degli zombie? Si Allora piglalo Prima che scompaia Io intanto sto andando a aprire La porta di qua Salta Cazzo di Furgatorio Ora nel video Ci sentirà una musichetta Soave Perché c'è la La videocamera Che è a partita Non so dove sia Qua deve correre Dov'è la videocamera? Sento tipo What the fuck? Vabbè sti cazzi Poi io vedo Ma è tra Io sto correndo Proprio la cabos Ma dove stai tu? Per attivare tutto quello Che è attivabile Non c'è neanche la cassa Ci ha trollati Stavolta Lol Se ora che troviamo la cassa Facciamo il tempo a morire Troppe volte Ok ho spento la videocamera Lol Non so se tu hai sentito Minchia non ce la faccio Non ce la faccio Corri corri Ok ce l'ho fatta A rianimarmi Se muori Due volte in tre round No no Morivo perché Non mi rianimavo in tempo Non c'è la cassa? No non c'è la cassa Però qua c'è gli ucci Che sono anche abbastanza carini Da usare How much? 1500 Tu madre Morta Aspetta C'è il pezzo per terra Bello Secondo pezzo da spingaccia Che non riuscivo mai a trovare I pezzi li prende tutti lui C'è un bel friancazzo Cioè io sto Questo è il mio canale Ma il video lo fa lui Cioè io sono la spalla No 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 E vabbè Mi sono scimmiazzo di brutto Sti giorni a provarlo Sto zombie li so tutti I pezzettini Lo sappiamo benissimo Che hai nerdato Come un prof Non è vero Su questo gioco Si invece che è vero No invece di giocarmi Tutto mappe Così ho giocato Sto tanta zombie Perché mi piace di brutto Perché hai nerdato Come i gepardi Hai ragione Adesso direi Per fare un po' di soldi Torniamo dove eravamo prima Che c'è L'instant kill Che non abbiamo usato adesso Qua nel caso Ricordiamoci che ci sono sotto le munizioni Quindi Mal che vada Le pigliamo qua E ci facciamo un altro round qua Round sdvogo Decido io Non faccio Ma è ovvio La strategia la decido io Prendo l'instant Sì dai piglia tanto Cazzo te ne frega No più che altro Magari dopo Eliminazione Stentano Che hai detto Andiamo Sì andiamo giù da basso A prendere Ah Ah No Oh Nuke Lui prende le nuke così Sì Voglio i punti Eh Attiviamo adesso La lavatrice Attiviamo adesso Attiviamo Che c'è big money Anche se non costa soldi Attivare È una scusa random Per fartela aprire a te La corrente Dov'è la corrente? Eh dall'altra parte Dove c'è la corrente? Sì lo so Lo so Sono pro Aspetta io mo Trollo l'ultimo zombie Così facciamo Lui trolla gli zombie Ah figo La chiave è vero C'ho pure io Ogni volta che apro La corrente qua Mi impiccio porca Eh qua c'è l'ultimo zombie Non lo uccido Così possiamo farci La lavatrice Con L'ultimo zombie Aspetta che io però Mi sa che mi vuole bene qualche munizione Sì ma io finchè non c'ho il dragon Mi sento angosciato Perché Io c'ho 45 munizioni Rischio di morire in 5 secondi Aspetta facciamo così Momento 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 Alla Ok attiva la lavatrice Eh io sto a prendere munizioni Attivala tu Beh sta ancora aggir È attivata Instant kill Aspetta 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 un attimo Ora arriverà la guardia del cazzo Ah si? Ma la guardia vuole instant kill E la guanchotti No Oddio l'ho presa No volevo prenderla La lavatrice Ha finito di lavare il buccato Dai Sto cazzo ha finito Quando Eccola qua Vedi che inizia Va come corre Scappa Merda Eh lui Lui pensa di distruggere Le barriere Sto qua Ok fai fuori un po' di munizie Che tanto abbiamo la cosa Ma l'hai ammazzata? Sì Bravo Ok Munizioni questa Vabbè io l'ho presa Cioè vabbè Cerchiamo di avventurarci Verso il jugger L'apro io sta porta Ok Ce n'abbiamo un po' dietro Sì sì Te scappa Questa apri la te Devi aprire Vai aprire anche quella Giù da basso E il coso dei codici Che io da sopra Devo morire Per farti prendere a te Il coso sopra Perché io c'ho già il pezzo Mamma mia Quanti zombie New Eh sono nati Bravo Costa mille la cosa sotto Eh vabbè te ce li hai i soldi No Sì sì No era una domanda Sì 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 Mille mille Però Allora con calma Oddio Un'altra istanza E questo è l'ultimo zombie Questo è l'ultimo zombie Preparati giù da basso Che ti faccio scendere il pezzo Vai Allora Parapam Parapam Ti sta arrivando uno zombie Con calma 967 Lo devo uccidere Oppure È l'ultimo No non ucciderlo Non ucciderlo Trollalo un attimo 9 6 Lol Giro Giro Tondo Ok sta arrivando giù il pezzo Vallo a prendere E se no Tanto Vai ci sto Già fin troppo stiamo facendo Cioè guarda quanto siamo forti In due Già proprio Ok Mo l'unica sarebbe di prendere il jugger Iniziare ad andare a montare sti pezzi Perché gli altri Dove stai Un sopra ancora Sarebbe da aspettare Trovare la cassa In giù Da qualche parte Porca Puttana Di merda Ottimo Questa la apriamo dopo Perché tanto adesso non serve Perché tanto il pezzo là Non ce la facciamo Prenderlo Dobbiamo aprire questa E prendere il juggernaut Ok Siamo forti Miliardi di punti Milioni di dollari di punti Però dobbiamo fare Sì infatti E siamo qua In questo posto Che è bruttissimo Per gestircela Con gli zombie Ma vieni qua fuori Che scusa Se vieni qua fuori Ti vengono solo da due parti Sì Però inizieranno a arrivare Un po' in tanti Adesso Io ti ho una Bella il per due Pialo Pialo Oh che cazzo Te lanci le granate sui piedi Che tecnica è Non lo so Ho sbagliato No Aspetta Aspetta A pigliarlo Almeno finché non lampeggia un po' No No il guardiano Adesso no No adesso Che non c'è più colpi Non ho più munizioni Io apro di qua Porca Eva Spara dread Spara dread No la pistolina Mi è rimasta Mannaggia a voi Porca puttana pure a me Devo andare giù A prendere il Thompson Io pure sto senza armi Ok Ho giusto 1.5 Merda No C'hai dietro ce l'hai No eh si sono anche incastrato abbastanza Porca bestia Ok Ok Per fortuna muoiono Oh l'instant kill Grande No Grande Mamma mia Grande un cavolo Perché ne arrivano un figia fin troppo Dove sta la guardia? Ancora in giro sta qua A rompere il cazzo Oh le Oh Nuke e munizie Eh la nuke aspetta Ok aspetta Aspetta Ecco il tele che fa un po' di punti Ah oddio Lascia l'ultimo Lascia l'ultimo Mi vado a suicidare Non prendere niente Mi vado a suicidare Per aprirti il juggernaut Così appena abbiamo 2005 Prendiamo anche il juggernaut Va bene La nuke scompare E cerco di attivare un po' Eh beh a parte che Non ce l'ha Dove sta l'ultimo? Ma te insegui a te Io non lo vedo Sì qua ci sarebbe da aprire anche la porta Un sacco di roba da fare però Ma sti cazzi Prendi i pezzi E famo la gente Provo per favore Eh i pezzi Ormai li abbiamo già due pieni Dobbiamo andarle a montare Per prendere tutto il resto Non ce la faremo mai Lo sai benissimo No No Vabbè intanto Portanto è il jugger Almeno Sì ecco siamo magari là vicini Che magari 300 e te Famo Usain Ce la possiamo fare Sperando che Dove cazzo è lui? Ah eccolo qua L'ho stronza per terra Ciao L'ho stronza per terra Ok Qua monto Non era neanche l'ultimo Ce n'è un altro Lol Dove? Ah ma ti inseguono 2005 Ho 0 punti Ma che bello Lol Io ho 1.800 Dai dai Stai magari Un attimino lì E io vado giù Qua a tenere tutti gli zombie Do do a mangiare al cane Poverino Che c'ha fanno Vai dai da mangiare al cane Che tanto Noi prenderemo sicuramente Il Tomahawk Vero? Eh ma voglia Eh eh Ne prendiamo tre Uno dopo l'altro Iniziano già a non morire Con la mp5 A round 7 Iniziano già a non essere Ok Eccolo Sarma mi piace troppo Quella col caricatore rotondo Tipo Galeazzi Il Thompson Sì È Figo il Thompson Andiamo da mangiare al cane Ah la guardia ha sfondato qua la cosa delle armi Non possiamo più creare le armi A meno che non paghiamo 2000 Quanto non ce ne frega niente Dato che non creeremo nulla noi Nulla Zero Alla prima cassa Prendo la spingacida Instant kill Bella Oh mori Non faccio il tempo a coltellare Che sono troppi Porca Io c'ho 2005 A coltella Bella col jugger Mamma mia quanto siamo forti Stavo morendo con l'instant kill Perché volevo coltellarli tutti Perché a coltelli Eh perché fai più punti Fai 130 punti in confronto ai 10 Sì Se ce n'hai 400 davanti Però sa cortelli Non lo so Infatti la rischia O sei Rambo Oh porcava Questo stava nascosto tipo Splinter Te l'hai preso il jugger no? Sì Avantissimo proprio Ok momento di relax Siamo a round Round un bel po' Sette Round un bel po' Lui non sa contare I numeri romani Ero in difficoltà Un attimo a leggerli Quindi analizziamo un attimo La strategia del momento Cosa possiamo fare Possiamo andare a prendere A montare i pezzi Sul di sopra Intanto Il cecchino Grande Ogni volta che giochi su zombie Da capito il cecchino Non è normale Il richiamo Aspetta Provo l'ultima Perché non ci sto A prendere una cazzo di arma In quattro volte Che apro sta cavolo di roba Ma perché non viene da me? Sei troppo più bello Guarda 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 come ti ama Un altro cecchino La storia d'amore Fra lo zombie e Ron Guardate Due volte il cecchino di fila Red Qua ci metto la musichetta Oh no 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 Ti sta a tradi con me Due volte il cecchino di fila Baffanculo un'altra volta Ma perché devi spreca i punti? Perché non ci sto Che mi capitano tre cecchini No non ti capita quello che vuole Sei benissimo Vai eccola Che schifo Ce l'hai dietro Fall Vabbè basta Mi rifiuto Andiamo su a montare i pezzi Nell'aereo va Senti come urla Paxo qua Vai Qua l'acido è qua Perfetto Abbiamo anche tutti i pezzi Per la spingaccia Da volendo Peccato che ci manca l'arma Esatto E ma se cazzo La chiave lì La cassa Non mi da un cazzo Vado su ad aprirti il cotto Per Per montare Intanto faccio Giro giro Intanto per raccontarci C'è una storia Di come hai conosciuto La droga Negli anni bui Della tua vita No Non l'ho conosciuto Ah no la puoi tenere per te Questa storia Mi sta uccidendo uno zombie Ho aperto sopra Questa zona non mi piace Mi sto facendo inseguire Da uno zombie È finita È finito Pezzo Pezzo da merda Non so più dove andare C'è un'ambulanza A casa mia Eh te sono venuti a pia No era la polizia Non era l'ambulanza Eh te sono venuti a pia Sopra quando vuoi monta Intanto prendo il pezzo Qua di sotto Siamo già 3 su 5 Sarebbe proprio Quanto siamo forti Sarebbe tipo Un video troppo epicness Se tu urla di zombie Mi sta inseguendo zombie Come Aspetta adesso Lo vado a distrarre io Ce l'ho dietro No non lo so Lo sai Ah ok No è sparito È morto Non è morto Mi stava inseguì Era Usain Dobbiamo andare a prendere Adesso Dardo Facciamo così Torniamo Proprio di gran corsa Perché siamo veloci No merda Eh sì devo Dove c'era Dove c'era Fuori il Thompson Di prima giù da basso Così prendi un altro pezzo Prendo un pezzo io Che te hai ancora Un purgatorio Vero sì Sì Nel dubbio spara Ti ricordi che c'è anche Le granate Che io non le cago mai Solitamente Ah è vero Ci abbiamo anche quelle Già cominciano A non cale più Stavo litigando con lo zombie Lui mi toglieva la barriera E io le la costruivo Oddio Quanti schiaffi Che mi han tirato Già cominciano A non cale più Sto rischiando di morire Dred Eh io pure Sono rosso Merda Ok ok no L'ho scampata fin troppo bene Non so come ho fatto Mi sentivo passato In due mi han dato 8 schiaffi a testa Erano violentissimi quelli C'avevano 4 mani Se vede Calcola Toffa il giretto Dei più paxi del mondo Ma mia starma Quanto cazzo mi piace Sì io amo Syndicate Che Mi ha fatto capire Come si gioca a zombie Muni Grandissimo Ti sto quasi amando Non ho fatto un po' di ricaricare Perché non ho avuto tempo Di Vabbè Quanti ce n'hai là Ok il cane qua se n'è andato Eh Ok Cioè io ce n'ho uno davanti No no ce ne sta uno per terra pure Sì 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 lo so lo so Ammazza quello per terra Ok Allora aspetta adesso Eh mi Vado Allora bisogna fare una cosa Devi stare attento Devi riuscirti a Ok Gestire Lo zombie qua dentro Io vado in ultimo Devi entrare dentro qua Che ti apro la porta io Eh se ti stanno seguendo Sì no no Io adesso vado in purgatorio Devi riuscire te a gestirtelo Sì 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 Vai vai Entra dentro qua Nel gabbiotto Eh un attimo Dimmi quando sei dentro che ti attivo Proprio dentro Sì sì dentro è qua Che io ti apro Vai Ok Bella che ti ho chiuso fuori lo zombie Suca zombie Esci Ok ti riapro e preparati a uscire Adesso io provo a fare la provata Ad aprire anche i macchinari là Corri cazzo Prova La gondola che fa l'attivi Sto correndo come un pazzo No no aspetta 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 Dai che ce la posso fare Così prendiamo anche l'ultimo pezzo Pensa se adesso scopriamo che non stiamo registrando Eh io l'audio lo sto Sto registrando Però Io pure quindi al massimo c'è il cinema di zombie Eh sì però insomma Non ci affidiamo assolutamente al cinema di Black Ops 2 Dai che ce la sto facendo Dai che sei paxo Ok Ma dovremmo andare al guardiano A prendere l'ultimo pezzo e prendiamo anche l'aereo volendo Se vuoi Volendo potremmo farlo Volendo ci andiamo Però stai attento a non farti scappare lo zombie da dietro Ok Allora le opzioni sono Abbiamo l'aereo fatto Andiamola e facciamo 1.500 e potenziamola le armi E quindi nel tuo video ci sarà il gran viaggio con l'aereo O rischiamo di fare un altro round qua per fare i soldi subito E magari non ci prendiamo neanche con l'aereo Come te pare Eh vedi te è il tuo canale Il mio canale No io direi di farmi vedere il viaggio in aereo Allora monta Mi tengo io lo zombie Guarda zombie Zombie va come sono bello Zombie Bravo Costruendo il mitico aereo che ci porterà Ok Lontanissimo Sali sopra Sali si parte Si parte Ma saliamo tutti e due Eccoci qua Ma io non ti vedo Cioè sono alla tua destra Sinistra Di qua Di qua Oh lol Fred dimmi quanto ti giocavi questa costruzione dell'aereo in due Ma penso che se qualcuno ha scommesso ci ha perso i soldi Perché nessuno ci avrebbe Anzi se qualcuno ci ha scommesso ci ha vinto parecchio Dovremmo cominciare a fare tipo le scommesse Alla lottomatica Mo la chiamamo Si si E non sono mai morto Sono morto io a round zero tipo Io ho sbloccato un obiettivo Nessuno fuggirà più Ok occhio che qua arrivano gli stronzi Si lo so E dobbiamo farci almeno 1.500 Potenziamo Appena potenziamo Torniamo di là Proprio correndo A gambe elevate Eh si Uh Uh Che fatica Vabbè Vabbè Siamo troppo Ma è troppo Che la star mappa zombie La misciala Che poi stanno un milione di cose da fare Eh si Ci vorrebbe la spingacci Da porca Più che altro Se mo capita un Un per due Un all'istante Sarebbe epicness Eh si Ma non capiterà mai Ok arrivano le guardie Arrivano due teoricamente Non arrivano sette Ecco la prima Ottimo Sono ancora due Stronze Il bello è che ti seguono Sempre tutta te Si perché cazzo Ce l'hanno con me Lol Oh Te spara qualcuno Però eh Sto sparando Che cazzo C'ho io C'è un instant kill Pialo Pialo Sucate Bastardi E mo segue te però Eh vabbè sti cazzi No Sei rinnamorata di te Oh Ok Ok A coltella Se ne sono pochi Orco Eh è vero c'è l'instant kill Insomma pochi Un parolone pochi Potenza potenza Che ce la facciamo Lascia l'ultimo Ce ne sono ancora 25 Qua stanno ancora Continuando a salire Fermo Ok Beh io potenzio Il Thompson Peo ce l'hai dietro Aspetta Vai tra Vai tra No ancora so un po' Ne li porto da me So ancora un po' Oddio Ok club privato preso Mamma mia Wow Potenzia te dread Che ti ritengo da badai io Eh ma cazzo Potenza 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 Eh lo sto a potenza L'hai presa Sì Dai torniamo di là Prendi la stedia Senza uccidere quelli Non ucciderli Ma che cazzo Lui è tattico proprio È tatticissimo lui Non pensavo fossero gli ultimi due Mamma mia Non dobbiamo fare lo scudo Non so dove stanno i pezzi No lo scudo Non c'ho ben fatto L'abitudine manco Vieni su di qua adesso Rianimati Veloce Lo scudo Un pezzo sta Dove sta la cosa La gondola Qua dobbiamo far mangiare il cane Dread Se ce la facciamo È difficilissimo Non dobbiamo resistere qua dentro Nel dubbio Apri di qua Come ho fatto Dietro Nuke C'è a bomba Kaboom Se facciamo mangiare sto cane Ce l'abbiamo quasi fatta Quasi Sì ma Qua dentro Sì ma qua siamo tipo circondati È una cosa No è impossibile Però dai pian piano Fai conto che finché non finisci di mangiare Gli altri ti conviene non ucciderli al centro Perché tanto non mangia gli altri Ma quanto Quanti ne devi mangiare? Eh 5 o 6 se non sbaglio Mannaggia Occhio che ne arrivano da tutte le parti qua Occhio che ne arrivano fin troppi Porca Fottili nelle munizioni in questo momento Fottili Merda Basta che ammazzi Instant kill Instant kill Grande Mamma mia Mamma mia Fai mangiare Cane stai mangiando ogni tanto Pezzo del merda Il cane è l'unico cane a dieta Amo trovato Il cane vegetariano Mamma mia Ma perché? Chi è? Quello è esploso da solo C'è il Magna Tienilo qua Dai ha coltellato l'aria Non uccidelo Non uccidere Non uccidere Non uccidere Che fai finire di mangiare Ora ora Magna Vedi Olè Dai cane ti prego Siamo al 12 Sparisci pezzo di merda Sparisci Sì Dai Sì Andiamo su Andiamo su Se prendiamo il tavo È tipo il best gameplay Ewa Andiamo Andiamo di qua Vieni dread Qua dobbiamo resistere Tipo Qua è ancora più difficile Da resistere Però si capita Tipo un instant kill Infatti l'alistan kill Ci ha salvato Come il tenista Dovemmo resistere qua dentro A far mangiare sto cane Se ce la famo Intanto ti prendo un pezzo Ti sa mai che Così Ok Te guardi Uno Cane cane Vai inizia a mangiare ciccio Mangia cane Ecco dietro dread Te guarda quella porta lì Guardo qua Che anche se è un po' più complicata Come cosa Oh ma guardia No non ci credo No adesso la guardia no Non rompere il cazzo Adesso guardia Distruggila L'ho ucciso L'ho ucciso No sono No merda Sono morto Porco diaz Come sei morto Eh sono caduto Cazzo c'è la guardia Resisti in attimo dread Te l'ho fatto Eh resisti in attimo Grande Eh lo so Siamo in un punto bruttissimo Merda Sono morto Sei morto anche te Sì Eh qua Siamo inculati Ci siamo andati a inculare qua Per fare rinascere il cane Che è difficilissimo Più che altro Dovremmo andare a prendere Il juggernaut Che è fin troppo lontano La guardia però Mamma mia quanti Eh ciao Sono morto Bella Bella Tutti Belli e brutti Ce l'abbiamo Abbiamo fatto una buona cosa Comunque Non abbiamo fatto cagare Dai Almeno round 12 Insomma E più che altro Abbiamo rischiato qua Potevamo andare All'infermeria A gestircela meglio Ma volevamo prendere Questo cavolo di Tomahawk Di merda Sprendevamo il Tomahawk Era tipo Altro che Syndicate Eh lì prendevamo La spingacida Poi col Tomahawk Vabbè poi là Si arrivava minimo Al round 50 Minimo Sicuro Ovvio Vabbè raga Il video che oggi è finito Non so se lo vedete Il 26 Il 28 Il 2 maggio Il 4 giugno Probabilmente il 12 agosto Però noi Io ringrazio Ron Niente È stato un piacere Che come avete visto È morto Al round 1 E lo prenderemo in giro Tutta la vita Per questa cosa Come cazzo ridi No Quello dei Simpson Più Più che dei Simpson Sembrava tipo Come cazzo si chiama Tipo quel luce al letto Vabbè mi ricordo Poi dovevo cercare E te lo metto Ah un capo picchiarello Esatto E vabbè Noi ci sentiamo alla prossima Mettete mi piace Commentate Ron Vuoi salutare qualcuno Tua madre Tua padre Ah tutti quelli che mi stanno guardando Amici da casa E Thread Ovviamente Ci sentiamo alla prossima Bella Bella